Ed ora quinto incontro di questo galà, chiamiamo sul ring l'arbitro signor Raffaele Claudio Aveni. La disciplina è Muay Thai, la categoria è quella dei 65 kg. Chiamiamo sul ring, all'angolo blu, otto incontri disputati, sei vittorie per lui, due delle quali per K.O., due sono i pari. Già campione italiano junior F.I.K.B.M.S. per il team RUA 67, da Firenze, Manuel Nessi! Manuel Nessi! Contro di lui, all'angolo rosso, 24 incontri disputati, 13 vittorie per lui, 11 sono le sconfitte. Campione italiano W.M.C. in carica per il team XC1 Gym, da Roma, Daniel Gershuyo! Campione italiano Campione italiano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per cortesia mettere la musica di Muay Thai, grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.